ok buongiorno a tutti ben arrivati sempre nella nostra aula virtuale for the foreseeable future sempre in aula virtuale finché non si può incominciare andare nei vari ospedali a parlare e il seminario di oggi è audit come si fa e a cosa serve allora mentre lo preparavo mi sono accorto che pensavo fosse più semplice prepararlo e la difficoltà più grande è primo che il materiale che è scaturito da un primo draft dello script è che avrei potuto parlare per ore ma noi oggi come al solito ci fermiamo un'oretta insieme e poi perché molti di noi hanno un'esperienza diversa rispetto all'audit e una definizione possibilmente leggermente diversa rispetto alla propria esperienza allora ho pensato che oggi dobbiamo andare a catturare l'essenza dell'audit e una volta catturata l'essenza dell'audit l'importanza di questo strumento di cui non possiamo fare a meno si possono approfondire diciamo i dettagli ok anche perché chi si approccia all'audit per il miglioramento non lo può fare buttandosi così di colpo senza una facilitazione senza una formazione senza un coinvolgimento e tutto il resto ok per chi è con noi la prima volta su questo canale youtube e sulle piattaforme personali di quality improvement italia approfondiamo temi di rischio clinico responsabilità professionale per il sanitario e gestione di qualità sanitaria allora il seminario di oggi si svolge in tre parti la prima è un esempio introduttivo in cui ci tuffiamo subito dentro l'essenza dell'audit una seconda parte dove andiamo a vedere i tipi di audit e i tipi di dati che vogliamo usare per gli audit e poi tiriamo insomma le nostre considerazioni conclusive prima di andare nel diciamo l'ultimo quarto d'ora a Q&A se avete domande le potete mettere in chat oppure magari ho ovviamente una pletora di argomenti aggiuntivi sull'audit e se non ci sono domande magari espandiamo un attimino su un altro esempio ok prima di partire velocemente nota di servizio il prossimo seminario lo teniamo il 12 febbraio sempre sabato alle 10.30 e parleremo di assicurazione professionale medica fondamentalmente quali sono le vulnerabilità e quando si rischia di pagare di tasca propria ok? ricordiamoci che per quanto la maggioranza dei sanitari un po' per esorcizzare il rischio rinnovano le loro palizze sanitarie l'ultimo giorno della scadenza se non addirittura quando sono già scadute in realtà la percezione di avere un'assicurazione inadeguata è uno dei primi drivers per la medicina difensiva per cui segnatevi la data 12 febbraio cancellate gli impegni e ci vediamo tutti là e passate parola se pensate che sia ragionevole ok? per i certificati di partecipazione per oggi basta scrivere alla nostra segreteria segreteria chiocciola qualityimprovementitalia.it ok? partiamo dritti ok? allora esempio introduttivo siamo gli allenatori di una giovane promessa italiana dell'atletica ok? 14 anni è una star nascente dei 100 metri e siamo diventati gli allenatori di questo ragazzo o ragazza facciamo una bella seduta di allenamento facciamo fare il riscaldamento e chiediamo al nostro atleta di fare una prova sui 100 metri pronti? via si fa i 100 metri noi osserviamo e facciamo bella corsa lunga elegante potente composta molto 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 bene c'è qualcosa che vi interessa sapere? per valutare la performance di questo ragazzo in maniera oggettiva? a me mi è sembrata molto molto bella elegante lunga potente composta manca il tempo manca la misurazione della performance ok? e quindi diciamo seguendo i consigli di amici e parenti che stanno lì sulle gradinate insieme a me e mi dicono ma che allenatore sei? vado a cronometrare nuovamente un altro 100 metri partiamo pronti via cronometro 11 e 3 che tempo è? buono? cattivo? così così? manca qualcosa? qualcuno si butta in chat a dirmi cosa manca? per poter dire che questo dato è buono cattivo o così e così? manca un dato di riferimento io apposta vi ho messo il 14enne per togliervi un pochino il punto di riferimento che ho mai noto in campo adulto i tempi più o meno li sappiamo tutti perché ogni 4 anni perlomeno le Olimpiadi le eseguiamo però vi ho tolto questo punto di riferimento in realtà in pochi di noi sapranno qual è il punto di riferimento per un 14enne e quindi ci serve un benchmark ok? ci serve un dato di riferimento per capire la prestazione che valore ha e quindi per aspirare a un miglioramento bisogna avere prima una misurazione della performance e un benchmark di riferimento ok? il punto di partenza e il punto di destinazione una volta confrontato il dato con il benchmark possiamo misurare il gap la distanza tra le due prestazioni ok? e si comincia a ragionare su come colmare questo gap e allora come allenatori a questo punto dobbiamo andare a vedere il processo che mi dà questo tempo di outcome cioè questo risultato finale di 11.3 non abbiamo analizzato ancora il processo sappiamo che qualsiasi cosa succeda all'interno di questa corsa l'outcome è 11.3 e allora io non sono un allenatore professionista però vado su google mi vedo come posso scomporre il processo della corsa allora a occhio a naso potremmo dire uscita dai blocchi poi c'è la transizione verso l'assetto eretto e di piena velocità il segmento di piena velocità e poi l'arrivo con la proiezione classica finale sul filo di lana ok e quindi diciamo che io questo processo l'ho diviso in quattro parti ok e mi interessa valutare come si comporta il mio atleta nei vari step del processo quindi la terza misurazione che farò sarà misurando i tempi nei sottosegmenti e ovviamente avrò i miei benchmark sui sottosegmenti ok e vediamo che il nostro atleta non è tanto forte alla partenza ok per cui decidiamo di lavorare un po' sull'uscita dai blocchi dobbiamo fare un po' di potenziamento esplosivo quindi introduciamo qualche cambiamento nell'allenamento facciamo un po' di plyometrics ma a un certo punto noi dobbiamo dopo un mesetto dobbiamo capire se questo cambiamento che abbiamo cercato per potenziare un segmento del processo effettivamente si è traslato in un miglioramento della prestazione sia del segmento sia totale e quindi cosa bisogna fare? correre per la quarta volta dopo un mese e rimisurare tutto il processo e l'outcome allora si fa quest'altra bella corsa dei 100 metri andiamo ad analizzare i vari segmenti e vediamo che è migliorata molto l'uscita dai blocchi quel potenziamento è servito però l'azione della corsa si è fatta leggermente meno fluida quindi un segmento è migliorato dove volevamo migliorare un altro segmento risultato inatteso è peggiorato outcome finale identico 11.3 non si schioda dall'11.3 chiamo tutti i membri del team degli allenatori amici parenti e tutti quelli che mi possono dare un consiglio ci mettiamo intorno al tavolo e cerchiamo di capire quale azione di miglioramento nell'allenamento ci può consentire di riprendere la fluidità nella corsa nel segmento di massima velocità senza perdere i miglioramenti che abbiamo avuto nell'esplosibilità dai blocchi e quindi introduciamo un secondo cambiamento nell'allenamento aggiungendo appunto degli esercizi specifici che dovrebbero aumentare e far ritornare al meglio la fluidità nella corsa e a un certo punto dopo un altro mesetto di questo secondo tipo di allenamento dovremmo pur capire se questa intenzione si è traslata in un miglioramento e quindi cosa facciamo? andiamo a rimisurare la prestazione e i vari segmenti misuriamo ancora si fa un alti centimetri e siamo tutti contenti che il tempo adesso è 10 e 7 ha mantenuto la potenza nell'uscita dei blocchi ha recuperato la fluidità in massima velocità e l'outcome di processo è migliorato quindi abbiamo misurato la performance abbiamo individuato il benchmark di riferimento e stimato il gap abbiamo analizzato abbiamo analizzato le fasi del processo per capire dove e come si potesse intervenire e poi abbiamo introdotto il cambiamento il primo potenziamento e poi abbiamo misurato nuovamente i segmenti di processo e l'outcome questa attività di misurazione della performance comparazione al benchmark introduzione di un cambiamento e rimisurazione di verifica per vedere se effettivamente si è migliorato si chiama il trucco è nel titolo la prova come si dice il audit ok o audit abbiamo fatto un audit di miglioramento ok alla luce delle conseguenze inattese in questo esempio abbiamo introdotto un secondo cambiamento abbiamo misurato nuovamente la performance per vedere se il secondo cambiamento avesse prodotto un miglioramento queste attività di ripetizione dell'audit si chiamano cicli di audit il ciclo di audit o test progressivi di miglioramento ci fanno migliorare e ci avvicinano all'obiettivo ora possiamo dire che la parola audit o audit deriva dal latino audire lo sappiamo tutti perché se andiamo su google tutti i script sull'audit cominciano così che significa ascoltare ma noi dobbiamo aggiungere per ricordarci ascoltare chi chi è che ci parla ci parla il dato i dati ok quindi senza dati se non misuriamo il nostro lavoro dal piccolo evento in reparto a un audit più interdisciplinare piuttosto che nazionale non sappiamo qual è la nostra vera performance rispetto a un benchmark e non sappiamo in che direzione stiamo andando ok quindi questo è il primo concetto fondamentale da portare a casa allora all'inizio abbiamo detto che tutti noi abbiamo una certa familiarità con diversi tipi di audit allora quando ne parliamo di solito ce ne vengono in mente almeno tre allora uno è quello classico in ambito economico finanziario e si riferisce a un processo di verifica che ne so dei dati di bilancio o di procedure per controllarlo nella correttezza questo pochettino per noi sanitari è uno diciamo l'audit economico finanziario più o meno quello che abbiamo in testa e poi abbiamo familiarità con altri due tipi di audit sanitario uno è l'audit esterno per cui il tuo ospedale chiama un'organizzazione esterna e gli dice senti mi controlli che io ho tutti i criteri per essere accreditato o certificato non lo so voglio diventare un istituto di ricovero cura a carattere scientifico devo soddisfare certi criteri oppure una certificazione di qualità tipo la joint commission cioè chiami qualcuno gli dici vieni e guarda se ho questi criteri alla fine sì no se è certificato o accreditato e il secondo audit sanitario con cui abbiamo familiarità è quello che arriva a seguito di un incidente reclami o segnalazioni facciamo un esempio pratico così riconosciamo un pochettino la fattispecie siamo in guardia chirurgica operiamo un paziente con addome acuto il paziente muore ci arriva una bella denuncia il risk management team del nostro ospedale fa partire prima di tutto una significant event analysis review da cui emerge che si è operato con un certo ritardo rispetto a un benchmark identificato avendo verificato questo ritardo conduce un audit retrospettivo su tutti i casi che il povero chirurgo ha operato nell'ultimo anno e scopre che il 20% dei nostri pazienti risultano operati con un certo ritardo sempre rispetto al benchmark individuale e quindi il risk management team conclude che siamo un po' chirurghi a rischio perché non sappiamo magari gestire le priorità le urgenze insomma magari rischi una sospensione e cominciano i problemi questo tipo di audit viene percepito e a tutti gli effetti è un audit punitivo di controllo di apporzionamento di responsabilità cosa hanno in comune questi tre audit economico finanziario e due audit sanitari che si concentrano e sono caratterizzati dal fatto di essere soprattutto incentrati sui primi due punti misurazione e benchmark di riferimento misurazione del gap dopodiché si dà un giudizio ho due dati e ti dico buono o cattivo male o bene certificato o non certificato accreditato o non accreditato quindi utilizza soprattutto i primi due passaggi del nostro allenamento di audit a noi oggi interessa un altro tipo di audit l'audit clinico che utilizza tutti e quattro i passaggi perché abbiamo già capito che misurare solo l'outcome o il gap non serve a migliorare oggi a noi interessa capire lo strumento audit per il miglioramento e non per il giudizio e vediamo in che contesto noi dobbiamo inserire questo audit di miglioramento che va a misurare il processo e non solo l'outcome questo è un pochino il mantra benzoni che è la base della base da cui bisogna sempre partire allora negli ultimi decenni si è capito che per ottenere il miglior risultato per i pazienti occorre avere il trattamento giusto per la malattia in questione consegnarlo senza ritardi e consegnarlo senza incidenti ok uno due tre esempio facile facile paziente si sveglia alle tre del mattino di colpo con un dolore accoltellata in epigastro chiama la guardia medica gli descrive cosa è successo sta sudando sta molto male la guardia medica dice guarda secondo me ti si è perforata un'ulcera ti devi devi andare subito in ospedale chiama il 118 perché devi essere operato chiama il 118 il 118 arriva lo portiamo subito in ospedale e si discute anche con il paziente in quale ospedale della zona ospedale A o ospedale B voglia essere portato e gli infermieri e il medico dell'ambulanza dicono a questo paziente guardi nell'ospedale A c'è il chirurgo migliore d'Italia nell'ospedale B sinceramente non sono sicuro non lo so comunque ci sarà un'equip di guardia con il dato clinico cioè della competenza clinica dove andremmo io solo con questo dato andrei all'ospedale A solo con questo dato ok all be in equal prima di andare però mi dicono anche guarda che comunque nell'ospedale A dato che c'è il miglior chirurgo italiano c'è un po' di fila c'è un po' di fila e ti toccherà aspettare un pochettino è capace che rischi di aspettare 3, 4, 5 ore allora il nostro paziente si guarda si guarda un pochino un libro google eccetera così e scopre che roughly speaking ogni ora che passa da quando ti sei perforato all'intervento chirurgico la tua mortalità aumenta del 5% e quindi inizia a farsi i calcoli allora se arrivo entro un'ora e mi operano ho un rischio di morire di 1 a 20 se passano 5 ore 1 su 4 ecco che la consegna della competenza clinica incomincia a incidere sul mio giudizio e sull'outcome non solo vado su l'iPhone mi metto l'acquard dico ospedale A ha una percentuale sta sui giornali perché ha una eccessiva incidenza di incidenti post operatori con prescrizioni sbagliate di farmaci piaghe da decubito cadute infezioni ospedaliere mentre l'ospedale B è tra i primi quindi ecco che si rinforza nel momento in cui la mia picture vede la competenza clinica la consegna della competenza clinica e la sicurezza delle cure ero partito per andare dritto dritto all'ospedale A ma dopo che so tutti e tre questi elementi voglio assolutamente andare all'ospedale B questo è un concetto che non ci dobbiamo scordare per capire che il processo di consegna è importantissimo dopo tutto in qualsiasi industria anche non sanitaria anche quando ordinate la pizza da Deliveroo ci sono questi tre punti quando c'è un prodotto e ci vuole la consegna il processo è importante la pizza è vero che vuoi proprio la pizza napoletana che è ordinato ma te la devono consegnare anche senza ritardo primo perché se te la portano a mezzanotte che l'hai ordinata alle nove magari hai mangiato altro oppure arriva fredda e senza incidenti perché se la consegna un altro la pizza non la mangi se si cappotta con la bicicletta la pizza diventa una macedonia di pizza quindi ogni volta che c'è un prodotto per noi è il prodotto cura da consegnare tutti questi tre punti sono importanti importantissimi non se ne può fare a meno quindi questo è il punto di partenza per collocare l'audit di miglioramento e del miglioramento del processo è necessario assolutamente che noi siamo in grado e abbiamo gli strumenti per migliorare il processo di consegna delle cure e l'audit è uno degli strumenti più importanti ok quale tipo di dati usiamo per un audit quali sono quelli più più utili allora tutti noi conosciamo abbiamo familiarità con il dato scientifico dato scientifico se vuoi determinare tra il trattamento A e il trattamento B quale sia il trattamento migliore per la malattia X facciamo uno studio scientifico utilizziamo dati scientifici quindi fai l'ideazione dello studio approvazione pianificazione reclutamento svolgimento dello studio follow up analisi dati scrivere report sottoporre a peer review pubblicazione qualcuno deve replicare lo studio e poi c'è la diffusione generale lo studio può durare anni e soprattutto utilizza dati il più possibile precisi dati 0,01 eccetera significatività non significatività il dato scientifico a cui tutti ci appelliamo però che succede con il dato scientifico e con lo studio scientifico che hai una domanda oggi e la risposta forse ti arriva fra due anni allora quali dati ci interessano per governare la performance di un processo allora per misurare la performance di un processo in termini di qualità e sicurezza all'interno di un sistema complesso variabilissimo come un sistema sanitario serve un dato che consenta un adattamento rapido e mentre lo studio clinico vuole studiare due gruppi il più possibile simili e fa variare solo il trattamento nella realtà dei fatti quando andiamo ad analizzare un processo non riusciamo a togliere i bias confounding factors sono dei test drive nella vita reale e quindi non abbiamo più bisogno di un dato precisissimo e lontano ma ci servono dei dati magari meno precisi ma più frequenti che consentano l'adattamento facciamo degli esempi facili facili che ci fanno capire un pochettino l'essenza di questo dato il nostro gioco che facevamo qualcuno faceva da bambini fuoco fuochino acqua eccetera così non è che facevamo il gioco dicendo manca se è lontano un metro 35 centimetri e 42 millimetri se è lontano un metro 42 centimetri 21 millimetri bastava il dato grossolano bastava fuoco fuochino acqua e piano piano si arrivava all'obiettivo al contrario se non fossimo stati così frequenti nel feedback del dato ci sarebbe stata la possibilità che uno inizia a cercare in salone questa cosa che si era nascosta e poi dopo un quarto d'ora uno dice fuochino ma io sono già arrivato alla portineria perché senza indicazioni non ho direzione ok un altro esempio del dato reale che mantiene il processo nella direzione giusta può essere il tachimetro della macchina ci dà un dato frequente di feedback rispetto alla performance del motore schiacciando il pedale del gas e noi utilizziamo questo dato rispetto a un benchmark di interesse un benchmark di interesse può essere il limite di velocità il benchmark è 50 all'ora ho il dato e decido come modificare la performance del sistema alzando il piede dal gas quindi l'audit non necessita assolutamente di dati super precisi o di statistiche complicate ci servono dati meno precisi ma più frequenti e per come si dice portarci a casa questo questo punto molto importante perché è importante perché poter utilizzare rilevare dei dati non super precisi ci può rendere la vita facile ci può sbloccare rispetto alla voglia di fare un audit non è necessario sempre avere un super statistico a disposizione non è necessario avere una raccolta super precisa e quindi ci può aprire le porte a fare un audit anche estemporaneo e analizzare il trend un pochettino come abbiamo fatto durante purtroppo questa pandemia con i vari trend allora vediamo un pochettino diciamo alleggeriamo un pochettino il seminario e vediamo qual è il miglior modo per cuocere un piatto di spaghetti tre stelle Michelin allora abbiamo due scelte o il metodo scientifico o il metodo degli audit progressivi e diciamo per rendere semplice questa questo piccolo giochetto parliamo solo di salatura dell'acqua e cottura della pasta al dente allora per coloro che volessero scegliere il metodo scientifico consiglio di prepararsi molto prima di avere fame e diciamo che potremmo fare uno studio in cui facciamo bollire x numero di pentole vi do anche la quantità d'acqua costante per non complicare le cose e ogni pentola gli diamo 5 10 15 20 grammi di sale e per ogni variazione di sale di salatura facciamo cuocere 8 9 10 11 12 minuti abbiamo la nostra matrice poi con un misuratore di durezza pasta verificheremo lo stato di cottura rispetto a un benchmark di riferimento e alla fine di questo esperimento avremo una formula per cucinare gli spaghetti ottimali ovviamente la formula non sarà così precisa al cambiare della qualità di pasta quindi se barilla o molisana o all'altitudine in cui ci troviamo perché ovviamente cambiano i tempi di cottura allora abbiamo detto che invece c'è un metodo un altro metodo io che personalmente preferisco ed è quello delle approssimazioni progressive cicli di audit e così parto con una quantità di acqua indefinita e un po' di sale così a caso senza una una misurazione precisissima dopodiché faccio il mio primo audit vado a misurare il dato la salatura e ovviamente la mia misurazione ce l'ho sulle papille gustative lo paragono al benchmark del mio gusto che sta ovviamente qua dentro l'analisi la faccio comunque qua dentro del gap che c'è tra salatura ottimale e dato registrato e decido l'azione di miglioramento sciapo un altro pochino faccio un secondo ciclo di audit sciapo secondo cambiamento metto un altro pochino di sale terzo audit perfetto stessa cosa la ripeto con la cottura faccio due tre cicli di audit e il mio spaghetto è salato perfettamente e perfettamente al dentro e questo è il motivo per cui in tutto il mondo di solito si usa il ciclo di audit per cucinare un buon piatto di spaghetti allora uno dice vabbè sì ok divertente però qua si parla di vita delle persone si parla di vita delle persone e quando si parla di vita delle persone bisogna essere precisi bisogna essere scientifici si può essere così approssimativi come quando cuoci la pasta e allora facciamo un esempio dove c'è in ballo la vita siamo in montagna tempesta di neve la temperatura sta rapidamente calando sta scendendo sotto zero rapidamente noi dobbiamo camminare da una sponda all'altra di un lago ghiacciato per raggiungere il rifugio e qui dobbiamo scegliere qual è il metodo da usare per raggiungere il rifugio dall'altra parte del lago ghiacciato potremmo utilizzare un metodo scientifico potremmo montare un sonar su un drone far volare il drone sopra il lago ghiacciato registrare gli spessori fare un mappaggio degli spessori del ghiaccio del lago mettere i dati sul computer inserire sul computer i dati gps della mia posizione e del rifugio e farci tracciare da un software qual è la strada più breve e però più sicura dove si cammina sul ghiaccio più spesso il rischio è che prima che tutto questo si sia completato con il metodo scientifico io devo arrivare lì il prima possibile probabilmente non ci arriverò mai oppure abbiamo la possibilità degli audit i cicli di audit quindi le approssimazioni progressive e queste si fanno con uno zeppo tecnicamente in cui pianto il mio zeppo nel ghiaccio e ho un feedback dal esperimento il ghiaccio si rompe il ghiaccio non si rompe dove non si rompe metto il mio piede e così via ok quindi anche in una situazione ad alto rischio in cui c'è rischio la vita il metodo di approssimazioni progressive di test ripetitivi di cicli di audit funziona ci dà risultato in tempi brevi e molto corretto ci approssima al dato che ci serve in maniera corretta e rimaniamo sempre in ambito di dati e dati che misurano il processo quali altri tipi di dati conosciamo allora abbiamo i dati quantitativi e qualitativi ok non è un segreto li conosciamo tutti ma come li utilizziamo per comprendere la performance di un processo allora facciamo facciamo un esempio facciamo un esempio direttamente allora facciamo un esempio che riguarda la performance di un reparto diciamo di un pronto soccorso ok quanti pazienti riesce a vedere entro non so il benchmark qui in Gran Bretagna è di 4 ore per cui una misura di performance del sistema pronto soccorso è quale percentuale di pazienti riesce a vedere entro 4 ore allora il mio dato quantitativo mi dice che riesco a vedere il 92% di pazienti entro le 4 ore e questo è un dato molto buono perché diciamo che la soglia è il 90% ok quindi siamo al 92% stiamo facendo molto bene il dato quantitativo di uscita del mio processo del sistema pronto soccorso 92% è un ottimo dato e mi potrei fermare qua potrei andare a casa tranquillo con questo dato quantitativo e festeggiare però qualcuno pensa di fare un audit qualitativo e fa una survey un sondaggio sul personale del pronto soccorso e da questa survey il personale di pronto soccorso mi dice che per la stragrande maggioranza sono molto stanchi sono allo stremo quasi in burnout e molti stanno pensando alle dimissioni qui si rischiano le dimissioni di massa ecco che un dato qualitativo mi rivela qualcosa di profondamente vero dietro a un dato di processo e quindi mi serve come il pane quotidiano è vitale anche il dato qualitativo e quindi ricordiamoci anche di questo quando discutiamo di dati di outcome di un processo ok quali altri tipi di dati ci interessano quando parliamo di audit nella prima parte diciamo della nostra chiacchierata abbiamo visto sempre qui in evidenza il dato di outcome 11,3 10,7 per il velocista 92% per la prestazione del pronto soccorso e questo dato di uscita di un processo si chiama outcome measure ok ora l'outcome measure non sempre anzi quasi mai riflette esattamente come abbiamo visto l'esempio del pronto soccorso la realtà tutta la realtà allora facciamo un esempio di chirurgia generale in un reparto di chirurgia generale dove si fa chirurgia colorettale viene presentato un dato di outcome per cui il 90% dei pazienti che operiamo di resezione del colon viene dimesso in terza giornata post-operatoria il 90% presenti una slide così a un congresso applausi di 10 minuti è il dato di performance complessiva ed equivale al tempo cronometrato sui 100 metri però ho bisogno di un dato che dia più spessore a questa realtà e allora che succede se un'altra misurazione mi dice che il 25% di questi pazienti viene nuovamente ricoverato in ospedale entro una settimana ecco che il dato iniziale di outcome viene osservato in terza dimensione con questa che viene definita balancing measure e cioè una misura di bilanciamento che ci dà un'idea migliore della realtà del dato quindi quando vi presentano a un congresso in un meeting un solo dato di outcome noi che stiamo incominciando a ragionare veramente di qualità dobbiamo pensare qual è il dato che mi bilancia questo outcome che mi fa capire veramente se quello è un dato che ha una certa qualità oppure solamente una facciata e la domanda che vi pongo è questa se il nostro giovane atleta del primo esempio avessimo cronometrato i 100 metri 9 e 50 cioè più o meno quello che corre USA in Bolt in età adulta quale sarebbe stato un dato balancing measure per capire se questo dato è totalmente veritiero o no ora vi lascio tre secondi per pensarci magari fare un tentativo in chat mi serve una balancing measure per i 100 metri corsi da un 14enne a 9 e 50 ok allora potrebbe essere la direzione e la forza del vento 9 e 50 correva contro vento cerco subito di fargli un contratto per i prossimi 20 anni e essere sempre il suo allenatore perché vinceva tutte le gare dei prossimi 20 anni se dietro invece aveva un vento a favore fuori dei parametri consentiti ovviamente quel dato 9 e 50 lascia un po' il tempo che trova e quindi la direzione la forza del vento per il nostro velocista è una balancing measure la stessa dei riricoveri entro una settimana della chirurgia colorettale ovviamente quando hai questa balancing measure nel nostro esempio della chirurgia abbiamo queste readmissions questi riricoveri possiamo poi allora andare ad analizzare questi riricoveri capire nel processo i temi per cui i pazienti rientrano e poi andare ad analizzare il processo quegli steps che influenzano il riricoveri ok questo oggi non lo trattiamo se no non finiamo quindi attraverso questo piccolo esempio possiamo cominciare ad apprezzare come l'audit non va visto come una cosa che si fa una tantum perché devo fare un audit così ma rappresenta un vero e proprio metodo di lavoro con cui guido la mia nave nella direzione giusta e non a caso utilizzo l'analogia della nave che ovviamente non si guida ma la nave si governa la nave si governa e guarda a caso l'audit clinico è uno degli strumenti principali del governo clinico cioè quegli strumenti che ti consentono di governare la tua nave sanitaria e farla viaggiare in qualità e sicurezza nella direzione giusta ok ed entriamo nell'ultima fase del nostro seminario di oggi questo seminario ovviamente rende molto di più in aula con la possibilità di fare schemi alla lavagna perché si è più rapidi però se manteniamo ancora la concentrazione per una decina di minuti portiamo a casa qualcosa di essenziale allora adesso è il momento di tornare al nostro audit punitivo iniziale ok quello del ritardo dalla parotomia abbiamo avuto quell'incidente abbiamo avuto la denuncia abbiamo avuto l'audit del risk management team che ci ha fatto l'audit retrospettivo e ci ha detto che non eravamo non eravamo bravi ok quindi noi non non avevamo misurato nulla arriva qualcuno a posteriori dopo l'incidente ci misura la nostra performance e noi siamo dei cristi in croce per cui non abbiamo alcun modo di difenderci ok immaginiamo se avendo contezza di un processo ad alto rischio come quello dell'addome acuto e della tempestività di una laparotomia avessimo deciso di misurare questo processo come metodo di lavoro e quindi magari avessimo deciso nel tempo di comunque monitorare le tempistiche dei pazienti nei loro passaggi c'è soppronto soccorso consulenza chirurgica TAC intervento operatorio avremmo avuto noi i dati di flusso avremmo magari scoperto noi i colli di bottiglia dove si perdeva un po' più di tempo esempio c'è una gran fila in TAC ok a quel punto si va a discutere con il collega radiologo con i colleghi di pronto soccorso del perché c'è la fila in TAC e vediamo che si ha una TAC sola per una quantità di pazienti esagerata quindi c'è la necessità di risolvere quel collo di bottiglia si incomincia a fare un business case in cui si cerca di ampliare gli slots per per la TAC o addirittura si propone l'acquisto di un'altra TAC per gestire il flusso di pazienti insomma si comincia una discussione articolata motivata da un business case e da uno studio del processo con l'amministrazione e quindi c'è comunque in atto un tentativo di miglioramento e allora pensiamo a cosa succederebbe nel momento in cui si ha comunque un incidente comunque si va in giudizio la differenza di un giudice che vede che uno non ha misurato niente e che quindi questo dato di casca sulla testa o un reparto che attivamente sta monitorando con un audit continuo le fasi del processo addome acuto e che può documentare i tentativi e l'impegno per il miglioramento ok quindi in questo caso vediamo che non solo l'audit ci consente di migliorare ma protegge il paziente e noi stessi in caso di contenzioso perché dimostra la nostra attitudine al miglioramento e ci permette un dialogo costruttivo con l'amministrazione e andiamo le nostre diciamo andiamo a trarre le nostre conclusioni per poter migliorare bisogna misurare la performance del sistema bisogna avere uno standard di riferimento bisogna analizzare i dati di processo per proporre dei cambiamenti che potenzialmente potrebbero produrre un miglioramento bisogna misurare nuovamente la performance dei steps del processo e dell'outcome per vedere se il nostro cambiamento ha effettivamente prodotto un miglioramento questi punti che abbiamo denominato si chiamano audit se tenti un secondo cambiamento e ripeti il ciclo stai facendo un ciclo di audit quindi di approssimazioni progressive che ti portano sempre più vicino all'obiettivo per meglio stabilire il trattamento migliore per una data malattia il metodo scientifico è quello che ci serve ci serve un dato preciso hai una domanda oggi che arriva molto precisa fra due anni per migliorare un processo abbiamo bisogno di un dato meno preciso ma più frequente ok fuoco fuochino acqua e che nessuno provi a cuocere un piatto di pasta con il metodo scientifico quindi l'audit è uno strumento essenziale un metodo di lavoro irrinunciabile per garantire e cercare sempre la qualità e la sicurezza del processo cioè la consegna del prodotto competenza clinica senza ritardi e senza incidenti abbiamo detto che un metodo di miglioramento continuo è protettivo sia per l'outcome per il paziente sia per il sanitario che può dimostrare la sua attitudine al miglioramento anche laddove per forza di cose si trovi coinvolto in un contenzioso piccoli audit estemporanei quelli che vengono chiamati snapshot audit sono un buon metodo per familiarizzare con la potenzialità dello strumento cominciare a discutere sui dati concreti anche accostarsi al linguaggio e cominciare a percepire le barriere perché fare un audit non è non è solo conoscere i quattro passaggi bisogna avere a che fare con le barriere che si sviluppano quando si vuole introdurre un cambiamento quindi tutto quello che è un contesto di leadership teamwork comunicazione e change management e quindi possiamo concludere che misurare costantemente i processi serve a capire in che direzione si sta andando e per citare Seneca nessun vento è un buon vento per chi non sa dove andare e direi che ci fermiamo qua perché già abbiamo messo parecchia carne al fuoco allora prima di vedere se ci sono domande ricordo ancora per i certificati di partecipazione vi prego di scrivere a segreteria chiocciola qualityimprovementitalia.it per chi non è iscritto al canale youtube vi raccomando di farlo così cresciamo e voi non perdete le notifiche laddove non pubblicizziamo il seminario sulle piattaforme social vi è la possibilità di iscriversi alla newsletter di qualityimprovementitalia dove mandiamo un contenuto creato o curato esclusivo per chi fa parte del gruppo e poi per chi vuole ricordiamoci la guida essenziale una professione pericolosa al rischio di incidenti e responsabilità professionale medica e grazie a quelli che mi hanno dato tanti messaggi positivi ok allora do un'occhiatina do un'occhiatina se ci sono domande questo è il momento se no se no se non ci sono domande vediamo un po' allora Giuseppina il primo commento lo leggo dice conosce il benchmark solo dell'outcome non è realistico perché ogni fase del processo potrei avere delle modifiche che mi portano allo stesso risultato assolutamente nel senso cioè il benchmark è il nostro dato di riferimento conosce solo il dato di outcome non è abbastanza ok non ci possiamo accontentare del dato di outcome per cui tutti quelli che ci parlano di io ho solo il 2% di recidive sull'ernia inguinali noi ci domandiamo qual è quale sono le balancing measures per esempio cioè quanti pazienti hanno una tornano da lui con una recidiva quanti pazienti hanno dolori cronici dopo l'intervento di arno inguinale eccetera ok bisogna pensare sempre al balancing measure ok allora visto che non ci sono domande in chat io concluderei con un altro piccolo esempio in cui collego molto velocemente quello che può essere un progetto di ambito nazionale a la possibilità di un audit di un audit piccolo 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 che si può fare in ospedale quindi vi do un'esperienza vera e solo per farvi vedere come anche i progetti di audit non sono delle entità isolate ma si connettono e si diramano magari da un progetto maggiore allora qualche anno fa il problema delle infezioni ospedaliere in UK era veramente un hot topic ok CDF MRSA veramente un macello e quindi è partito un progetto nazionale molto complesso per andare a ridurre queste infezioni ospedaliere e questo progetto ovviamente aveva una serie di sub ramificazioni che riguardavano prostridium difficile MRSA l'uso degli antibiotici quindi tutta una serie di una parte formativa educativa di controllo ecc e a un certo punto nel nostro ospedale qualcuno ha fatto partire un audit piccolo 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 con un controllo di come il personale sanitario si lavasse le mani all'ingresso della terapia intensiva per cui c'era una signora con clipboard una penna e ogni volta che qualcuno entrava in terapia intensiva lei stava lì dietro dietro un angolo e ti controllava ma tu non lo sapevi come ti lavassi le mani e faceva ovviamente il suo report al risk management team diceva il 70% si lava le mani il 30% no di questo 70% che si lava le mani la metà se le lava male quindi il risk management team aveva un dato sia complessivo ma anche individuale per cui anche gli individui venivano notificati cioè per favore controlla che ti lavi le mani e te le lavi bene ok allora ovviamente il il clinico che si vede arrivare una mail da risk management team che gli dice che non si lava bene le mani ovviamente la prima reazione è una furia incontrollabile perché si è colpiti nell'orgoglio ma intanto tocca incominciare a riflettere quindi anche tra clinici infuriati si incomincia a parlare mi è arrivata questa email e quell'altro mi è arrivata questa email mi è arrivata questa email però il risultato è che si comincia a parlare e bisogna andare a vedere questa furia se si è giustificato o no ovviamente non lo è siamo solamente colpiti nella nostra dignità ma il dato reale osservato è che o non ci siamo lavati le mani o non le abbiamo lavate bene quindi il miglior interesse del paziente l'obiettivo finale a quel punto noi caliamo la furia e incominciamo a osservare questo 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 tipo di audit ok e piano piano si è avuto da questo audit semplice del lavaggio delle mani ci si è chiesto perché per come si è capito attraverso le discussioni tra colleghi poi tra colleghi della terapia intensiva si è parlato con il risk management team diciamo l'ospedale piano piano ha incominciato ad avere consapevolezza del problema più grande delle infezioni ospedaliere di tutti gli sforzi e gli investimenti che si stavano facendo rispetto a questo problema quindi ecco che un audit piccolo 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 ha consentito l'apertura di una discussione più ampia e ha connesso la nostra azione rispetto a un obiettivo più grande di di un audit nazionale di un obiettivo nazionale cioè tutti gli ospedali della Scozia stavano cercando di raggiungere l'obiettivo di abbassare drasticamente le infezioni ospedaliere ok allora leggo un attimo Guglielmina dice nella tua esperienza quanto tempo è necessario per introdurre questa metodica nella pratica quotidiana allora dipende dal contesto in cui ci troviamo un contesto più aperto con una leadership che non si sente minacciata e che dia spazio alle iniziative del proprio staff ovviamente è più semplice il mio consiglio è di cominciare veramente con un audit microscopico microscopico talvolta può essere anche un audit personale il mio primo audit è stato fatto sul mio workflow amministrativo neanche clinico cioè tutta quella parte amministrativa che da consultant surgeon devi fare rispetto al tuo lavoro e quindi ho fatto il mappaggio del mio lavoro ho fatto tutto un lavoro che all'epoca era di essendo certificato anche per la metodologia lean ho applicato in quel mio workflow il lean management methodology e quindi ho cercato di fare un audit sul mio metodo di lavoro e è stato assolutamente personale però ho incominciato a usare gli strumenti ok prima mi ero certificato dopodiché ho incominciato a doverli applicare non ho voluto applicarli subito in reparto perché ovviamente ero consapevole che le prime volte non sarebbe stato facile dopodiché un audit veramente molto molto semplice può essere facile può essere andiamo a vedere quanti pazienti hanno una corretta prescrizione degli antibiotici in reparto la possiamo fare solo su 10 pazienti insieme a un microbiologo ok e facciamo uno snapshot audit a sorpresa questo collega viene in reparto ci prendiamo 10 cartelle vediamo gli antibiotici vediamo se l'indicazione è corretta se i dosaggi sono corretti se in cartella è scritto tutto quanto quello che deve essere scritto riguardo a una prescrizione sulla sulla prescription chart ok quindi bastano dei dati minimi per incominciare a lavorare sulla metodologia e poi questo bisogna vedere quanti quanti incominciano a voler partecipare a queste iniziative Sabrina diciamo è altrettanto applicabile questo metodo per la neonatologia e la TIN audit aperti a persone medico infermistico assolutamente lavorare per audit progressivi è una metodologia che si può utilizzare anzi che va utilizzata ovunque perché se noi non misuriamo quello che facciamo non c'è alcuna possibilità di sapere dove stiamo andando faccio un esempio di partita di calcio al trentesimo del primo tempo la squadra A sta vincendo 2 a 0 ok contro la squadra B dopo 20 altri 20 minuti quindi al cinquantesimo al quinto minuto del secondo tempo io ho un dato di possesso palla che è totalmente a favore della squadra B tantissimi ti rimporta squadra B 0 ti rimporta squadra A tanti calci d'angoli per la squadra B pochissimi calci d'angoli per la squadra A ecco che io so un dato di processo che mi consente di capire che in realtà quel 2 a 0 potrebbe non rimanere 2 a 0 e invece di andare 3 a 0 4 a 0 5 a 0 probabilmente diventerà 2 a 1 2 a 2 ok sempre sempre misurare il dato di processo ovunque tu sia e la bellezza del dato che tu usi non per giudicare è che può essere anche terribilmente schifoso ok faccio sempre l'esempio di un dato in cui noi abbiamo fatto uno snapshot audit di quanti pazienti avessero spuntato l'opzione per CPR non per CPR e il primo snapshot audit fu 0% cioè ci siamo accorti che al ricopro del paziente quando il nostro specializzando junior compilava la cartella non spuntava mai una una diciamo quella casella per la rianimazione sì no ma anche quello 0% ci ha consentito di sederci al tavolo e discutere in maniera costruttiva e per migliorare quindi non dobbiamo andarci a cercare le misurazioni che poi ci danno un po' di gratificazione vado a misurare dove penso che stia facendo bene assolutamente un audit può essere anche un metodo per sondare e scoprire e avere delle rivelazioni laddove noi non stiamo facendo bene ok e assolutamente audit personale medico infermeristico fondamentali anche là piccoli piccoli semplicemente un audit che riguarda cosa possiamo dire la prescrizione e la somministrazione dei farmaci coinvolge tutti e due altri audit di cui i medici hanno contezza ma non li sentono appartenere sono gli audit sui decubiti sulle cadute dei pazienti ok che di solito sono in ambito risk management infermeristico ma accostatevi a quell'audit insieme perché mentre lavorate su quell'audit imparate il linguaggio imparate a gestire lo strumento incominciate a capire le difficoltà perché subito appena uno inizia a misurare una performance tutti si impariscono perché la prima reazione che si ha quando ci misurano la performance è ecco scoprono che non faccio tanto bene e vengo bastonato non è che mi danno le risorse per fare meglio quindi tutti quanti percepiamo una certa vulnerabilità e un rischio quando incominciamo a misurare per questo suggerisco cominciamo a misurare cose piccole periferiche aggreghiamo in zone poco minacciose impariamo lo strumento creiamo una cultura del miglioramento e dopo andiamo ad aggredire degli audit un pochino più complessi ok allora mi fermo qua vi ringrazio molto sempre per venire nella nostra aula virtuale di sabato mattina ne sono assolutamente conscio alcuni mi hanno chiesto ma perché proprio di sabato perché la stragrande maggioranza dei colleghi mi ha indicato il sabato come preferenza immagino che ritagliare un'ora di dal lavoro duro giornaliero sia molto difficile e ovviamente nel weekend vengono penalizzati solamente coloro che stanno di guardia quindi questo è un pochettino quello che faremo per il momento grazie ancora buon weekend a tutti lasciatemi un feedback per cortesia se dove vi è piaciuto il seminario o altri seminari se avete suggerimenti su cosa possiamo fare per migliorare insomma un feedback costruttivo a noi fa sempre piacere perché vogliamo migliorare ok buon weekend a tutti grazie a tutti Grazie a tutti